La piana di Lucca sempre più bike friendly. E' questo l'obiettivo del progetto presentato questa mattina 29 marzo a Palazzo Orsetti e che vedrà sviluppare sul territorio una vera e propria filiera del turismo a due ruote grazie alla compartecipazione dei comuni con due realtà affermate nel settore, Bike Hub e Pedal Italy. E' stato infatti avviato lo studio di fattibilità che consentirà attraverso un percorso pluriannale di trasformare la piana di Lucca in un vero e proprio hub della bike, il terzo in Italia grazie a una rete di operatori e servizi pronte ad accogliere le esigenze degli appassionati della bici. Un ecosistema che unisce pubblico privato dove i privati sono guidati sia come formazione e come conoscenza di questo mondo che è il cicloturismo e che sta portando grandi soddisfazioni ovunque. Il vantaggio principale è che si riesce a comunicare la destinazione come una destinazione pronta che ha seguito un percorso e quindi si porta un background di itinerari che sono stati studiati appositamente un background di preparazione proprio per gli operatori che sanno che cosa il loro ospite desidera il loro viaggiatore desidera e soprattutto poi tutto un network di contatti che riguardano ovviamente i tour operator specializzati nel cicloturismo piuttosto che la stampa di settore. Due anni di pandemia hanno sicuramente dato la spinta a un nuovo turismo, quello outdoor. È da qui che nasce l'idea di Pedal Italy, format virtuale che accompagnerà la promozione della piana nella sua nuova veste Bike Friendly. Abbiamo ideato questo format che si chiama Pedal Italy che è un format di ciclismo virtuale quindi ciclismo indoor per cui le persone connesse da tutto il mondo possono pedalare da casa propria sui percorsi più belli d'Italia e quindi naturalmente questo tool lo porteremo in dote insieme al Bike Hub dentro questo progetto che abbiamo presentato oggi per far sì che Pedal Italy diventi uno degli strumenti di comunicazione perché come diceva Silvia prima è necessario poter portare poi questo prodotto in giro per il mondo e Pedal Italy sarà una di queste modalità.